ben ritrovati con la rassegna stampa questa nuova edizione di oggi in studio con voi rosario moreno iniziamo subito con la lettura delle notizie coronavirus nell'emergenza i colossi dell'acciaio italiano smolpilitano dalla fuga di mittalla dal dia di tissen a terni gli operai dicono il covid è una scusa il sindacalista dice inizia stagione di lotta cresce lo scontro sull'ex silva con il rischio di una fuga della multinazionale dopo la nuova ondata di cassa integrazione i tedeschi annunciano la vendita dell'acciaio speciali arveli ha chiuso l'alto forno di trieste e l'ex lucchini stenta a ripartire nel piano dell'emergenza sanitaria si intravedono diversi segnali di una crisi dell'acciaio italiano già in difficoltà prima del covid il leader dei metà mercannici della will palombella ha detto che la situazione sta diventando ingestibile e rischiamo dismissioni a raffica l'esecutivo batta un colpo o gli operai si faranno sentire pubblica amministrazione dadone ha detto anche dopo la crisi vorrei il 30 40 per cento dei dipendenti in smart working serve un cambio di mentalità la ministra ha confermato che anche dopo l'emergenza covid 19 non tutti torneranno in ufficio non si tradurrà solo in un lavorare da a casa ci saranno anche delle postazioni di un co-working e servirà un cambio di mentalità nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti lo studio di galli e ci a milano ad aprile sfuggiti 239 31 mila casi nell'area metropolitana di milano dall'inizio dell'emergenza covid solo un caso su 20 è stato diagnosticato come positivo il resto è sfuggito una percentuale drammatica che rilancia l'allarme dei contagiati asintomatici soprattutto oggi in piena fase 2 coronavirus il covid hospital delle marche ancora vuoto la regione dice presto i primi pazienti e precetta medici e infermieri degli ospedali dopo un mese di lavori la struttura gemella di quella della fiera di milano non ospita ancora nessun paziente arriveranno in settimana dicono dalla giunta regionale che ha voluto il presidio sanitario speciale dopo un'intesa con bertolaso ma le organizzazioni dei lavoratori denunciano che il personale 96 persone sarà tolto ai nosocomi stabili della zona intanto la curva dei contagi scende le terapie intensive si svuotano coronavirus a bolzano dopo quello quella tedesca riparte anche la scuola italiana servizio ad hoc per i figli di chi non può fare smart working in ritardo di una settimana rispetto a tedeschi e latini l'assessore vettorato riesce a trovare l'intesa con i presidi dal 25 maggio per scuole di infanzia ed elementari partirà il servizio d'emergenza priorità i bambini di operatori sanitari e servizi sociali le famiglie che hanno già presentato richiesta saranno contattate nelle prossime ore notizie da napoli e dalla campania napoli vendevano patenti di guida di guida e nautiche falsi a 3.000 euro sono stati arrestati vendevano patenti false quelle di guida tra 3.000 ai 3.500 euro quelle nautiche a 2.000 euro facendo credere ai loro clienti di avere delle aderenze presso la motorizzazione di roma laurentina e quanto hanno scoperto i carabinieri del comando anti sofisticazione monetaria della capitale che coordinati dalla procura di napoli nord hanno notificato nei confronti di 12 persone quattro arresti domiciliari quattro obblighi di domo di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quattro di vieti di esercizio dell'attività professionale professionale da sei mesi a un anno gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione allo smercio di patenti di guida e nautiche e concorso nella produzione e utilizzo di valori bollati falsi. Napoli il boom di affari della vinella grassi col coronavirus 7 arresti sigille a 11 milioni i uomini della guardia di finanza di napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone 5 in carcere e 2 obblighi di dimora e sequestrato 11 società beni mobili e immobili per un valore stimato di circa 10 milioni di euro eseguita anche un decreto di perquisizione personale locale in sedi societari e locali abitazioni nella disponibilità delle persone colpite dalle misure. I destinatari sono ritenuti dalle fiamme gialle esponenti del clan camorristico vinella grassi. Nei loro confronti l'accusa è di trasferimento fraudolento di valori riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita estorsione illecita concorrenza con minaccia o violenza tutti aggravati dal metodo mafioso. Notizie da Treviso e dal Veneto meno smog e buona fioritura le apri prosperano grazie al lockdown. Treviso capitale veneta del settore la produzione del miele è aumentata del 60% durante il periodo del coronavirus e Bruno Marcon dice il miracolo sul montello. Maturità 2020 a Treviso mancano 40 commissari contatti con i pensionati la provveditrice ammette le difficoltà dice proviamo con i dirigenti in quiescenza ma non basta si spera in una deroga primi malumori per l'esame in presenza. Il Veneto ottimizza l'analisi dei tamponi fino a dieci testi in una sola provetta il dottor Roberto Rigoli primario del reparto di microbiologia a Treviso ha presentato un innovativo sistema per ottimizzare l'analisi dei tamponi con tutte le microbiologie della regione. Il direttore generale dell'URSS2 dice è una tragedia così riparte l'infezione non sarà mai finita. Movida Treviso interviene Francesco Benazzi che dice così non solo mettete a rischio la vostra salute e quelle dei vostri cari ma l'intera economia della regione quello che per intenderci fa funzionare anche il nostro modello di sanità veneta. Gli alunni dell'Istituto Coletti ringraziano con uno striscione il personale sanitario. Il banner appeso davanti a Villa Carisi è stato realizzato con i disegni dei bambini della scuola primaria Carducci e con gli striscioni dei diversi pressi dell'Istituto 5 Coletti. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Assalto al Bancomat tra Udine, Pordenone e Porto Gruare. A Percoto di Pavia di Udine pare il primo colpo seguito da quello a Mortegliano. Altri raid a Maron di Bruniera e su Maga. Quattro ai colpi messi a segno punta nella notte tra le due e quattro da una banda di malvimenti o forse da due bande distinte che hanno preso di mira due istituti bancari e due postamat di poste italiane tra la provincia di Udine, quella di Pordenone e il vicino paese di Porto Gruare o in Veneto. Norme anti-Covid in Friuli Venezia Giulia carano ancora le multe. Ieri a fronte di 1842 controlli, solo 13 le sanzioni. Massimo rispetto tra negozianti. Dopo due giornate caratterizzate da un preoccupante numero di persone positive in quarantena obbligatoria, pizzicate fuori casa, 7 domenica tutte concentrate nell'area Giuliana e altrettante lunedì. Quella di ieri è stata finalmente una giornata molto positiva da tutti i punti di vista. Come comunica la Prefettura di Trieste, infatti a fronte di 1842 verifiche delle forze dell'ordine, le multe in Friuli Venezia Giulia sono state solo 13 per mancato rispetto delle distanze o per non aver utilizzato la mascherina. 8 invece le denunce per altri reati. Coppia di ultra novantenni rapinata in casa, momenti di paura Udine, tre uomini a volto coperto sono entrati da una finestra lasciata aperta e li hanno minacciati. Una coppia di anziani è stata rapinata nella sua abitazione di Udine nella zona di Via Tricesimo intorno alle 21.30 di ieri. Tre malviventi con il volto coperto sono entrati da una finestra lasciata aperta e hanno intimata i due pensionati, lui di 98 anni, lei di 91, di consegnare loro i preziosi e i contanti che avevano in casa. L'ite tra due fratelli finisce nel sangue, è successo nella tarda serata a Cervignano, protagonisti due colombiani, uno è stato accoltellato, finisce nel sangue una lite scoppiata tra due fratelli di nazionalità colombiana e a Via della Colonnella, una laterale della strada regionale che poi porta a Gorizia. A Cervignano del Friuli, nella serata intorno alle 21, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto dopo l'allarme, i due uomini si sono messi prima a litigare, alzando la voce, e poi uno dei due ha stato una lama, sferrando uno o più fendenti. Udine è donna investita in piazzale d'annunzio, un ragazzo di 28 anni, in auto, la travolta mentre attraversava la strada, grave incidente stradale a Udine, in piazzale Gabriele d'annunzio, poco prima delle 19. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del capolugo friulano, intervenuto per i rilievi viabilità, una donna di 52 anni, cittadina stradiera, è stata investita da una Fiat Panda, condotta da un giovane italiano di 28 anni, la vettura, da quanto si è potuto rapprendere fino ad ora, proveniva da piazzale d'annunzio e stava andando verso il viale Palmanova. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.